Non solo marketing turistico ma anche cultura alla 24esima edizione della Borsa del Turismo Archeologico di Pestum. La Borsa di Pestum ha presentato prestigiose università nazionali ed estere all'incontro che ogni anno si tiene nel Cilento. Anche una delle più antiche università italiane ed europee, quella di Padova, ha partecipato all'interessante appuntamento con uno stand e una lezione di docenti arrivati dal Veneto tenutasi presso la Basilica Paleocristiana. A presentare il lavoro dell'Università Padovana c'era Emiliana Ricciardi che spiega l'importante ruolo culturale e l'offerta di studi presentati dall'Ateneo. Sono Emiliana Ricciardi, manager didattico del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. È l'università a 800 anni proprio quest'anno e siamo qui per presentare i nostri corsi di laurea triennali rivolgendosi a un gruppo di giovani che frequentano questo evento e presentiamo in particolare il corso di laurea in archeologia, progettazione e gestione del turismo culturale, storie e tutela dei beni artistici e musicali e il DAMS, cioè discipline delle arti, musica e spettacolo. In particolare facciamo vedere anche tutte le attività di ricerca che svolgiamo come dipartimento e i luoghi storici qui a Padova in cui facciamo delle visite guidate e delle attività culturali. Grazie.